A Lausanne, il tribunale arbitrale dello sport rispinge l'appello della mezzofondista sudafricana Caster Semenia contro la regola 141 della Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Quest'ultima obbliga le atlete con diverso sviluppo sessuale ad assumere dosi massicce di anticoncezionali per abbassare i valori di testosterone nel sangue al fine di gareggiare nella categoria femminile. Dopo un anno di istruttoria, il massimo grado di giustizia sportiva non ha rinvenuto nel ricorso, elementi giuridici tali da poter dichiarare non vali dalla norma federale. Il TAS ha inoltre invitato la Federazione di Atletica a studiare con urgenza una procedura più equa e certa. Ora la sudafricana, vincitrice di due titoli olimpici, tre mondiali negli 800 metri, unitamente ad almeno altre 10 atlete, dovrà scegliere se sottoporsi a cura, farsi monitorare da medici federali o competere su distanza inferiore ai 400 metri.